ciao a tutti vediamo come fare questa torta fresca allora avete bisogno di della pasta frolla poi vi metto i link in descrizione e di un contenitore per crostate questo perché una volta cotta va girata nell'incavo ci va messa facilmente la crema con la frutta poi abbiamo bisogno di frutta fresca a fantasia eccola qua l'ho già preparata questa è la crema pasticcera l'ho lasciato raffreddare un pochino ed ora la vado a mettere nell'incavo della mia crostata o se volete potete anche bagnarla un po la crostata ma io lo preferisco così che rimane croccante poi la messa in frigo naturalmente si ammorbidisce un pochino ok inizio poi a lavorare con un po di fantasia la mia crostata ho messo le fragole le ciliegie l'ho levato il nocciolo e le ho divise a metà eccola pronta ora ho preparato intanto la gelatina con le dosi che ho letto sulla busta acqua zucchero ho fatto bollire la faccio sepidire un pochino e la verso sulla frutta mi manca la nota finale ecco qua ho preso delle fragoline dal mio vaso e le ho disposte al centro una manciata di fragoline vedete e così è completa la metterò in frigo un pochino e poi la taglio e vediamo la frutta molto bene devo dire che oltre che bella è anche buonissima e facilissima da fare ciao a tutti vi ringrazio della visione ci vediamo al prossimo video